Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere siamo di nuovo qui alla partenza del volo delta Già lo scorso video ero qui perché sono andato a fare il Mortal Kombat che avete già visto Però il 31 dicembre, l'ultimo giro dell'anno, Alex Giordano è venuto su, ha tirato a lucida ragazzi È uno spettacolo, infatti oggi farò un POV di questa discesa full gas e ragazzi buona visione Ok io sono pronto, la Nomad è pronta, ready? Dropping! No, 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 no Oggi sentirete solo urla di gioia o di paura in base alla situazione e non parlerò molto per potermi concentrare Ok 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 Oh 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 Sono già cotto, non ho l'allenamento Sono già cotto p 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 Oh mamma mia ragazzi che figata non ho ancora allenamento per sostenere una discesa del genere devastante sia di braccio che di fiato e pensare che non hanno anche spinto tutta e sono già cotto e vabbè vabbè c'è ancora tempo per allenarsi dai io comunque spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like un bel commento iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in prossimo video ciao a tutti raga